Ciao cari amici! Benvenuti in questa nuova puntata di Baldi Basics, siamo insieme a Freddy Gamer, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Freddy Gamer, come sempre giocheremo a Baldi di mattina, ovviamente, di mattina presto poi, sono venuto presto e oggi non vado al mare, quindi possiamo fare un video di pomeriggio, si, finalmente, molto volentieri, e dovremmo vedere se ci funziona, brutto Baldi che mi impalla il telefono, non mi dare il ceffone, un ceffone un Baldi a volte te lo dà se ci vai vicino, non mi prenda qualcosa, torno al Non è vero, non è vero. 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 Ora, prima, in fondo c'era il bullo. Mi sa che l'avevo incontrato prima. Ho scansato... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Un altro timo di... Il bullo, il bullo era attaccato al telefono. Non è vero, non è vero. 1, 2, 3, 4... Eccola. Eccola. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5... Grazie a tutti No, 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 non te lo posso dire, ho già sbagliato il primo No, Baldi Grazie, Presidente, mi ha salvato la vita Il Presidente mi ha salvato... Cazzo No, no, no No, porca la miseria, no, porca la miseria Ehi Baldi, non puoi entrare qua dentro Baldi è entrato in presidenza Britta Baldi E' contro la legge E mi è entrato Ma siamo a me Ma sono a me Ma sono a me Ma sono a me Siamo a me Sentite Io Quando finisce Vincenzo Potremmo finire il video perché sono stanco molto wow, sarà un tre volte una volta subito perché ho fatto tutto sbagliato un altro ceffone come il sweeping ragazzi, la sto per fare mi mancavo una classe prima allora, vai, vai, vai 8 5 ok 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 no, questa è la presidenza mi sembra una classe non mi sembra una classe non mi esco fuori non mi sembra la classe ok 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 mi sembra i miei non mi sembra la classe non mi sembrava non mi sembrava ma oggi si è andata Ho messo un giorno anche mille baldi sui baldi, difficilissimo, un mattino di mille preside, difficilissimo, non lo fate mai che lui è un pazzo comico. Scrivete nei commenti se conoscete LionVGF, iscrivetevi ovviamente al canale, lasciate 6 like e ci vediamo. Alla prossima puntata, ciao ciao!